A partire da oggi, presso l'ambulatorio veterinario di Sciacca, sito in zona San Michele, sono cominciate le prime sterilizzazioni inerenti all'avviso pubblico del comune, rivolto a privati con determinati requisiti che vogliono sterilizzare gratuitamente il proprio animale d'affezione, cane o gatto che sia. Il bando è destinato a residenti nel comune di Sciacca, titolari di pensione minima o sociale, possessori di un reddito annuo lordo non superiore ai 10.000 euro disoccupati, oltre 65 anni oppure diversamente abili. L'iniziativa, in sinergia con l'Asp di Agrigento, andrà avanti fino al prossimo 31 dicembre, ma con possibilità di rinnovo o di proroga. È una possibilità che Opeleggis si dà ai privati con determinate caratteristiche, detentori di cani e di gatti privatamente, per microcippare e per sterilizzare cani padronali o gatti padronali. È un'operazione che noi facciamo per contrastare le forme di abbandono, soprattutto di cucciolate indesiderate sul territorio di Sciacca, cosa che purtroppo da più di un anno a questa parte si ripete in maniera pressante e costante, caricando il comune, l'ufficio sesto e soprattutto i canili con cui siamo convenzionati, di un onere veramente notevole, perché quando un cane entra cucciolo all'interno di una struttura di detenzione come il canile, purtroppo non ne può più uscire se non previa adozione. Oggi i primi interventi? Oggi i primi interventi, ma non ci fermiamo, nel senso che ci si può prenotare presso il nostro ufficio comunale, ci si può prenotare per poter portare un gatto o un cane, secondo la disponibilità dei medici dell'ASP. Le sterilizzazioni però sono bisettimanali, anzi sono settimanali, sono due giorni a settimana. Questa è una garanzia importante perché chi si trova ad avere per esempio delle cagnoline che potrebbero entrare in calore può immediatamente portarle e sterilizzarle, naturalmente con tempi tecnici definiti proprio dai medici. Ho deciso di aderire per avere soprattutto il controllo del raggiandismo, per la salute stessa dei cani, per tutelare la loro salute stessa. Lei ha due animali? Sì, due animali siamo inseparabili. Gli animali vanno trattati come membri della famiglia, anzi sono parte della famiglia e vanno trattati di conseguenza benissimo. Oggi quali interventi subiranno gli animali? Allora c'è Briciola che per l'età già compiuta dovrebbe essere sterilizzata sempre, come ripeto, per avere controllo per eventuali problemi di salute soprattutto. Sicuramente è un'iniziativa importantissima, in questa maniera si consente nel rispetto della norma di poter sterilizzare cani padronali di proprietà di soggetti fragili, di disabili, di soggetti che hanno pensione sociale e come previsto dal bando emanato dal comune. Questa mattina quali interventi eseguirete? Questa mattina abbiamo cinque soggetti, un gatto e quattro cani. Già abbiamo proceduto poc'anzi a sterilizzare un gatto e ora continueremo nelle sterilizzazioni. Perché la sterilizzazione è così importante anche dal punto di vista sanitario? È fondamentale per il controllo delle nascite. Dal punto di vista sanitario è altrettanto importante per la prevenzione di numerose patologie che possono colpire i soggetti in età adulta o anziana e che riguardano la sfera genitale, tumori mammari, infezioni all'utero, per cui la sterilizzazione in particolare delle femmine è anche un atto medico di profilassi sanitaria. Cosa dire a chi ancora oggi è restio ad eseguire questa pratica? Che ormai sia per il tipo di anestesia che per gli interventi chirurgici molto poco invasivi è assolutamente sicuro sterilizzare il proprio animale e tutela non solo il territorio attraverso la riduzione delle cucciolate indesiderate ma anche la salute del proprio animale.